Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi, come vedete, siamo in un garage e un meccanico che già conoscete. Oggi cosa facciamo? Allora, oggi abbiamo una moto offerta gentilmente da Massimo Dioni, mio carissimo amico, istruttore di Cremona, del nostro gruppo Einstein Racing. Allora, qui oggi dobbiamo fare un tagliando quasi compreso tra le candele. Ha un piccolo problema di fuoriuscita di olio e dobbiamo cercare di capire se è un discorso di bulbo o un discorso di filtro. E' un controllo generale, pinze, freni, olio, filtro, per vedere un po' cosa monta sotto. Ma riuscirei a trovare le chiavi in quel bordello? E' un po' che non metto le mani in garage, in effetti... Va bene, vedremo di strumentarsi. Intanto vi faccio vedere l'opera di ingegneria futuristica. Giustamente, siamo in un garage, quindi la luce non c'è. E cosa ha fatto? Il signor vince, ha attaccato con una fascetta, una prolunga, che poi fa il giro e finisce in un'altra presa lì. Tutto questo per avere la luce. Andiamo avanti e iniziamo con i lavori. Intanto vediamo anche con che attrezzi professionali si smonta una moto. Quelli in professionale. Perché col casino che ho in garage, ovviamente, qualche attrezzo ogni tanto va perso. Se qualcuno vuole offrirsi, magari lo scrive sotto i miei commenti, per aiutare il mio amico Vince a sistemare il bordello che c'è nelle garage, si offre per aggiustargli una moto. Ebbene sì, come potete notare, ci sono delle macchie d'olio che provengono alla fine dal filtro. Con l'aria va indietro e va a macchiare tutto il basamento sotto. Probabilmente non è stata lubrificata bene la guarnizione, quindi è stata stretta a secco. Così facendo crea delle micro lacerazioni sulla guarnizione che con le vasodilatazioni caldo e freddo fanno trasudare un po' d'olio. Questo problema può essere dovuto anche al fatto che magari è stato messo più olio del dovuto. Quindi adesso guarderemo dal manuale dell'officina il dosaggio esatto. Soprattutto cambiamo filtro e olio. Noi faremo un lavoro come si deve, giusto? Il lavoro è doc. Ad hoc. Quindi adesso guardiamo il libretto di uso e manutenzione della moto. CBR hanno? Questo è un 2019, la mia invece è un 2015. Questo ha. Perché è un bravo meccanico. Quando non ci sta la vaschetta dell'olio sotto, si ingegna. Questa... altro che ingegneria. Alto livello. Dove hai studiato per fare queste cose? Oh, Schwartz. Andiamo a svitare il tappo dell'olio. Mi raccomando, in senso antiorario, sono spanate. Usate i guanti. Anche, ma a me piace sporcarmi le manine, perché non so dove li ho messi, è il mio solito casino. E mi raccomando, usate sempre del usta quando avvitate e svitate la coppa dell'olio. Non siate degli assassini, niente frena filetti, perché in officina mi è capitato di vederlo. Come mi è capitato di vedere, che sostituissero questa vita perché la perdevano oppure spanavano. Quindi usavano delle viti, ovviamente con un passo diverso, quindi andavano a spanare la tappa del motore. Quindi dopo c'è da rifare il filetto con una vita maggiorata, oppure rimettere l'elicoi e da un lavoraccio de merda. Apriamo anche il tappo dell'olio qua sopra per far sì che entra aria e aiuti la fuoriuscita dell'olio. Questo qui l'hanno stretto come degli assassini, perché... E invece va stretto a quanti newton metri? A tre. A mano. Beh, dobbiamo prendere la chiave. Non si usano più le cagne. Alla fine, usare gli attrezzi, se uno li ha, li usa, altrimenti è un optional. Facciamo vedere invece qual è l'attrezza corretta per smontare il filtro dell'olio. Il filtro dell'olio. Che sarà cazzata da pochi euro in ferramenta e ci sarebbe la chiave apposita, ma non va bene per tutti i filtri. Quindi questa qui è una generica. Ovviamente lo stringiamo come gli assassini per svitare, che non è un problema rovinare il vecchio filtro, ma sul nuovo sarebbe meglio usare le manine per non rovinarlo. Ma sta venendo o sta girando a vuoto? No, sta girando a vuoto. Questo vuol dire che hanno fatto un ottimo lavoro. De merda. Bene, non riusciamo a smontare il filtro dell'olio, quindi adesso vediamo l'ingegneria di Vincenzo dove arriva. Cerchiamo nella cassetta magica degli attrezzi. Si cercano materiali per poter fare ultragrip. Si, non fate caso al casino, ripeto perché ho compratto la casa da poco, un anno, e ancora devo metterci mano su tutto il mio disordine. Da poco, un anno. Ripeto, se volete dare una mano a Vincenzo a sistemare il suo garage, sarà così felice da fare il tagliando a una vostra moto. Ovviamente i materiali sono a carico vostro, ma la mano d'opera ce la mette Vincenzo. Quindi vediamo l'ingegneria futuristica. Ma non un po' di nastro adesivo. No, nastro 3M che fa un po' più di grip. E vediamo un po' se funziona. Come mi sono svegliato tipo mezz'ora fa, magari il cervello inizia a elaborare il mio MacGyver che c'è in me. Perché se no in questi casi bisogna dare la classica botta col cacciavite, fare un foro e girarlo. Però vorremmo evitare. Sarebbe meglio avere la sua chiave apposita a tazza, che non ho ovviamente. Ma siamo meccanici di seconda mano. No, perché non lavoro più in officina, quindi non sono attrezzi che... Se avete in officina e volete far lavorare Vincenzo con voi, non vedo proprio segni di... Di cedimento. Niente. Questo problema è dovuto al fatto che è stata avvitata a... Secco. Proviamo a vedere con gli attrezzi quelli pesanti. Così direi che si debba svitare o si piega il cacciavite. È stato stretto come degli assassini. Giusto un pochino. Ce l'abbiamo fatta... Con le brutte. Molto brutte. Con tanta vasellina l'elefante si inculò la gallina. Allora, in poche parole, è stato serrato a non so quanti newton e non avendola a tazza, abbiamo fatto un foro passante e con l'uso di un cacciavite e di una cagnetta siamo riusciti, bene o male, a svitarlo. Ah, ecco qua. Dopo... Ha sbrodolato. Oh, ecco, guarda come sbrodolato. Che bello usare i guanti, eh. E se l'abbiamo fatto bene a mettere il telo sotto? Lo sapevo, io già prevedevo che sarebbe finita così. E voilà. Diamo la bella pulita al motore prima di richiudere tutto. Con petrolio bianco. Così è giusto fare i lavori. Dopodiché rimuoviamo il sigillo. La guarnizione va bagnata. Bisogna bagnare la guarnizione. Ah, l'è già bagnata nell'olio vecchio. Ottimo. E poi si stringe... Forse... Ti vede un po' preoccupato. Ma è già stretto così? No. C'è qualcosa che... Dopo una piccola pausa, perché mi è arrivato il filtro sbagliato, ironemente... Può capitare a volte, eh. Allora bisogna lubrificare la guarnizione qua davanti, se no, come spiegavamo, il problema che ha avuto della perdita è col fatto che se non viene lubrificata la guarnizione e viene sfregata a secco, causa delle piccole lacerazioni che con la dilatazione caldo-freddo tende a perdere olio. Quindi brutalmente lo si butta dentro. E adesso si dovrebbe avvitare a mano. A una certa età non si prende più il buco. Ai ai ai, se infiliamo così siamo rovinati. Ah, adesso ci siamo. Ok. Stretto a mano. Adesso, cosa molto essenziale che molti scludono, ogni qualvolta va sostituita la rondella di tenuta dell'olio. In questo caso, la vecchia, anche se tenuta bene, mica tanto. Allora, facciamola vedere la vecchia. C'è un bello scalino, non so se si vede bene. Quindi è sicuramente da cambiare. Esatto. Possiamo vedere se l'abbiamo sempre in alluminio, se no in rame. E a noi interessa il diametro interno, non quello esterno, anche perché poi nell'andarla a schiacciare, a comprimere, si dilata. Esatto. Bisogna sempre avvitare a mano, perché se si vada a avvitare storto con la bussola direttamente, si rischia di mangiare il filetto. E dopo, in quel caso, o cambi la coppa dell'olio. Anche questa qui va avvitata con delusta. Quindi appena sentite che arriva il duro, date tre tacche in su. Uno, due, tre. In modo di andare a dilatare la rondella di rame. Non va sforzata troppo, in quanto se dopo si spana, diciamo, l'interno della coppa dell'olio, è un bel casino. E adesso, fatta la parte, diciamo, un po' più complicata dello smontaggio filtro e il rimontaggio del filtro, andiamo a mettere il suo olio, consigliato, immagino, dal libretto di uso e manutenzione, giusto? Non esattamente, perché questa qui al momento è soltanto uso pista, quindi useremo un olio. Quindi c'è differenza tra la viscosità dell'olio, ovviamente. Useremo un 10,50 e bisogna mettere due litri e sette con cambio filtro. Quindi l'olio, diciamo, va scelto non tanto in base a quello che è consigliato, ma in base all'utilizzo che se ne fa. Adesso dobbiamo, siccome questa qui è una tannica da 4 litri, dobbiamo fare la misura. Esatto. Quindi, ingegnere, due, sette, meno quattro, si rimangono. Uno, tre. Esatto. Ancora la matematica un pochino. E adesso la parte più bella. Vediamo quanto ne cadrà per terra. Devi andare giù delicatamente e far fuoriuscire l'aria, se no risale l'olio e fa tutto fuori. Da notare l'imbuto professionale da meccanico. Probabilmente tipo ci ha scolato l'aceto la settimana prima. L'ha usato la sua ragazza per fare tipo qualche dolce. Alessia, se cercavi questo imbuto sai dove è finito. Dopo aver fatto un calcolo approssimativo, un po' ad occhio, con le tacchette. Alla bene meglio. Con le tacchette. A questo punto chiudiamo tutto. Intanto l'olio finisce di depositarsi. Dopodiché facciamo una prima steccatura a freddo. Bisogna mettere anche il cavalletto anteriore, se no il basamento è inclinato in avanti. Non prende bene la misurazione elasticella. Una volta che abbiamo messo l'olio all'interno del motore, cosa facciamo? Lo lasciamo depositare almeno una decina di minuti in modo che l'olio si deposita. Ovviamente non è entrato dell'olio, o almeno parzialmente dell'olio, nel filtro nuovo. Quindi in questo momento facciamo, come spiegavamo prima, la pulizia dell'asticella. E l'asticella non va avvitata, ma soltanto appoggiata. In questo modello. In questo modello. Andiamo a controllare. Talmente pulito che si nota poco. Comunque sì, il livello è giusto. Via con l'accensione. Lasciamo ridepositare l'olio in fondo, in modo dopo da rimisurare con l'asta. Intanto diamo un controllo generale alla moto, gli altri componenti. Quindi dobbiamo controllare il funzionamento delle luci del freno posteriore. Queste sono pedane racing, quindi non ce l'ha. Ce l'ha soltanto sull'anteriore. Una cosa che mi ha calcato subito l'occhio, sulle pedane, è che qua c'è una vite, non so se si vede bene, completamente lenta. Ah, perfetto. E siccome noi appoggiamo per il 100% il nostro peso per fare leva in curva sulle pedane, sarebbe meglio fissarle bene, magari con un po' di freno a filetti che è assente, mi sembra. Qui ho notato un altro di problema. Anche questa pedana è completamente allentata. Diciamo che questo non sarebbe proprio il movimento che dovrebbe fare una pedana, soprattutto perché andiamo ad appoggiarci i piedi sulle pedane. E oltre alle viti cos'altro si controlla? Ma direi principalmente l'impianto frenante. Quindi controlliamo prima di tutto la vaschetta dell'olio freni. In certi casi possiamo notare che il livello dell'olio può essere più basso, ma non vuol dire che sia consumato. Vuol dire che le pastiglie, essendo che sia sottigliate, fanno sì che la vaschetta dell'olio scenda il volume. Quindi controlliamo anche le pastiglie dei freni. La pastiglia del freno anteriore è a un buon 50%. Il posteriore, ad esempio, è un po' più consumato. E un altro dei controlli generali da fare, che non sempre in realtà viene controllato, è il filtro dell'aria. In questo caso è un BMC lavabile, quindi si riesce tranquillamente a riutilizzare. Un altro lavoro da poter fare, se notate che la moto inizia a inghiuzzare, è il controllo della pompa del carburante e il suo filtro. E per oggi è tutto. Adesso finiamo di montare la vasca inferiore e dopo ve la presento un po' più di vicino. Grazie a tutti. Adesso, finalmente, diciamo che la moto è tagliandata e è pronta per essere messa su strada o su pista. Per essere scannellata. Dunque, cosa possiamo ricordare ai nostri amici follower? Di mettere la campanellina. Scusate, non è tanto istruito. Dunque, che cosa possiamo ricordare ai nostri amici follower? Di iscriversi al canale. Lasciare un like e un commento. Io e Vince vi ringraziamo per aver visto il video fin qui. E noi ci rivediamo a un prossimo video. Ciao! Di lasciare un like. Di lasciare un like. Una campanellina. Che cazzo ti devo dire? Rifallo, Dioca. Di me che cosa ti devo dire, no? Dunque, che cosa possiamo lasciare ai nostri... Sì, vaffanculo. Cosa devo dire? Campanellina? Iscriversi al canale. Ah, iscriversi al canale. Mette la campanellina. Io dico lasciare un like e un commento. E mette la campanellina. Sì. Dunque, che cosa possiamo ricordare ai nostri amici follower? E cazzo devo dire? Mi stai incogliorando. Dai, Vince! Tu devi dire... Dimenticati quello che devi dire. Te lo dico io. Iscriversi al canale. Iscriversi al canale. Basta. E tu, mette la campanellina. Ci penso tutto io. Ad un prossimo video. Ad un prossimo video. Dove spoglieremo che dovremmo rimettere in strada il canale. Rifacciamo, metti di qua. Eh, dobbiamo dire che dobbiamo fare la campanella. Falla vedere. Cos'è che volevi dire? Che in un prossimo video... Che fa di là del casino. Vince che sistema tutto il suo casino per far vedere che nel prossimo video sistemeremo... Il mio CBR 2015. Sì. Che al momento è uso pista per rimetterla stradale, per metterla in vendita. Ah, bene. Il codino non è che hai rotto, eh. È tagliato perché così le carene da pista ci stanno. C'è tutta la sua roba là sopra, l'imballata, il suo nuovo... Tutto il CBR è tutto là sopra. Cioè praticamente... Quello che vedete qua è un altro CBR.